Mi chiamo Simona, sono una persona in movimento e che ama tanto le sfide. Sin dai tempi dell'università infatti non sopportavo l'idea che i miei genitori mi mantenessero e per quello ho subito cercato un lavoro. L'ho trovato all'interno di un tour operator e lì è nata la mia prima grande sfida, cioè quella di diventare manager di un grande albergo. Ce l'ho fatta in uno dei migliori alberghi di Palermo ma raggiunto l'obiettivo sentivo proprio la necessità di nuovi stimoli. È in quel periodo che è entrata Herbalife Nutrition nella mia vita e in quella di mio marito Piero. Da quel momento in poi non mi sono mai più fermata, neanche quando intorno a me si è fermato tutto, perché nell'aprile del 2018, due anni fa, ho perso improvvisamente mio marito. Herbalife Nutrition è stata importantissima perché le persone che collaborano con me mi hanno accolta, consolata, abbracciata. È vero che puoi lavorare in maniera indipendente, ma è anche vero che una volta entrata non sarai mai più sola. Oggi posso gestire meglio il mio tempo tra lavoro e mio figlio. Mi piace occuparmi delle persone nuove che entrano nella mia squadra perché aiutarle ha significato aiutare anche me. Ricordo ancora quando ho tornato da un meeting, Piero prese in braccio Matteo e gli promise che avremmo viaggiato tanto. Quest'anno sono riuscita infatti a portarlo a Disneyland, a Parigi e adesso c'è la nuova sfida, una prossima tappa che è l'America e so che anche questa volta ce la faremo.